e amici ben ritrovati torna l'appuntamento con la Shed Live questa settimana torniamo a parlare della nostra iniziativa a quel portafoglio modello che per il mese di giugno abbiamo deciso di dedicare interamente a un portafoglio modello non più calibrato pienamente su analisi macroeconomiche quanto più uno speciale portafoglio airbag proprio perché il contesto di mercato anche alla luce di alcune dinamiche che comunque troviamo assolutamente descritte sul nostro sito dedicato portafoglio ched punto it slash lp il portafoglio modello come dire ecco ci sono anche considerazioni di stampo macroeconomico che ci suggeriscono di quantomeno provare a tirare i remi in barca quindi aumentare la la simmetria di portafoglio e anche diciamo i connotati difensivi che ci hanno quindi portato a proporre questa tipologia di asset allocation come sempre ricordiamo anche qual è la filosofia del portafoglio modello è un è un portafoglio che nasce e di fatto successivamente insomma di mese in mese andiamo a selezionare il tema di mercato specifico eh una possibile ripartizione tra i vari eh settori e quindi di volta in volta viene modificato e cambiato anche sulla base delle delle emissioni che si susseguono sul mercato secondario andando a scegliere anche per lo stessa tipologia di settore magari inserita magari il certificato più eh interessante sulla base anche come detto delle recenti emissioni per chi volesse invece seguire le nostre analisi di conseguenza eh partire dal portafoglio modello del mese di giugno del mese di maggio del mese di luglio può comunque segnarsi all'iniziativa monitoraggio di portafoglio che è un'attività seguita dall'ufficio studi di eh certificati e derivati e quindi magari alla fine del video o anche nella descrizione che trovate sempre su youtube di questo video potete trovare eventualmente maggiori informazioni. Lì sì c'è eventualmente un servizio anche eh di eh segnalazioni qualora ci sia necessità di sostituire un prodotto magari con un prodotto più efficiente oppure i canonici alert anche sul fronte dell'andamento delle cedole. Eh ora andando un po' a ritroso perché anche giusto fare un minimo di eh track record io andrei anche a farvi vedere come magari stanno andando anche i portafogli eh creati nei mesi nei mesi precedenti quindi sia il portafoglio modello di maggio che in solo un mese ha prodotto già due virgola uno per cento in termini di performance considerando anche l'andamento delle cedole dell'incasso delle cedole poi quel portafoglio di aprile che ecco riclicchiamolo qua portafoglio di di aprile anch'esso eh positivo con una performance anche qui del del di circa il due virgola uno per cento eh riandiamo a vedere anche qual era il portafoglio di maggio uno virgola tre per cento di maggio comunque abbiamo tutte e due portafogli comunque viaggiano in territorio eh in territorio positivo questo nuovo portafoglio come vi ho anticipato ha una razza un po' diversa è un portafoglio interamente concentrato su prodotti eh con facoltà airbag quindi quell'effetto airbag che eh torna estremamente utile sotto barriera proprio per avere una simmetria ancora più marcata anche qualora ci sia effettivamente il riscontro dell'evento più negativo per quel che riguarda poi la vita dei certificati a capitale protetto condizionato che è proprio la violazione della barriera quindi è un certificato che lì eh l'effetto airbag serve ma evidentemente lo abbiamo apprezzato anche durante la vita eh dei prodotti è un effetto che apprezziamo anche eh diciamo non solo a scadenza e quindi ecco aumenta anche eh la resilienza dei prezzi in un contesto di ribasso dei sottostanti qual è ancora una volta il pensiero che tra noi ci facciamo qualora dobbiamo eh dobbiamo proporre questo tipo di asset allocation è che in presenza magari di un ribasso dei mercati eh è meglio ricordiamolo è vero ci troviamo in un eh diciamo quasi un picco eh di livello di manovra dei policy maker però è anche vero che poi andiamo incontro a una recessione quindi ci sono dei mix di fattori che un po' divergono e anche qui anche l'aspettativa eh divenne un po' più complicata da andare a strutturare se ci troviamo comunque in portafoglio con strumenti particolarmente resilienti il nostro pensiero è che eh in uno scenario magari di riflessione dei mercati reggono il prezzo ovviamente meglio e poi eh magari in un momento dove ci si trova in un contesto di base da parte dei mercati questi certificati hanno eh effettivamente performato meglio di un eh cash collect tradizionale di un di un eh Phoenix memory tradizionale e allora a quel punto poi magari eh optare per un eh come dire prodotti meno resilienti e un pochino un po' più aggressivi questo è un po' il nostro pensiero che per il mese di giugno ci ha portato a eh a proporre questo tipo di eh di soluzioni però andiamo a schermo intero e andiamo a vedere anche di che cosa stiamo parlando come sempre nella nostra eh nella nostra pagina troviamo la composizione settoriale eh come anticipato questo è un portafoglio airbag quindi non abbiamo una componente marcata di presenza dei settori è vero abbiamo il settore assicurativo con un venticinque per cento di peso specifico perché questo perché è il settore sicuramente più resiliente è il settore storicamente poco volatile eh business comunque eh ambito finanziario bancario eh è comunque e rimane il tema del momento settore come detto poco volatile quindi era giusto andarlo a sovrappesare quindi ci troviamo con un tema assicurativo del venticinque per cento e poi due certificati dai spiccati eh connotati difensivi eh un po' diversificati in in ambito di eh sottostante quindi l'abbiamo definiti di diversificato Italia con un peso specifico del venti per cento perché è un certificato agganciato a Danny Moncler Stellantis e Tenaris e un diversificato Europa perché troviamo Kering Unilever ma anche in Teta San Paolo e Ingi Group ehm troviamo comunque anche alla luce de di un prezzo del greggio comunque tornato a scambiare su livelli un po' più bassi eh della media degli ultimi anni eh un quindici per cento del settore petrolifero nello specifico associato però a un certificato che comunque ci protegge anche per una parte molto eh consistente della negatività eh è un certificato che peraltro era già stato presentato nei precedenti portafogli eh mensili e che continua evidentemente a piacerci quindi eh dopo lo vedremo nello specifico comunque troviamo come sottostanti Exxon Mobil Tenaris e Total Energies eh settore dell'automotive sempre con eh un un interesse particolare è ancora un un sottostante eh che ci consente di monetizzare parte della volatilità di mercato che peraltro su altri settori o in linea generale perlomeno guardando il VIX è difficilmente monetizzabile altrimenti anche qui è un certificato eh che avevamo già visto nel mese precedente è un airbag agganciato a BMW Ford General Motors e Ferrari chiude un banca assicurazioni anche qui eh con airbag ma dopo lo vedremo su BMP Paribas in Tira San Paolo lato banche lato assicurazioni Allianz e generali ehm quindi a livello di sottostanti e anche a livello di strutture abbiamo così composto il nostro portafoglio resiliente quindi trovate sempre in questa pagina anche l'assetta location con ISIN nome emittente scadenza sottostanti barriera eh cedola della frequenza perlomeno ecco sempre mensile eh trigger cedola quando è condizionata perché abbiamo anche due fixed cash collect airbag eh sia di Marex che d'UBS con premi incondizionati il trigger autocallable e il prezzo nel quale è stato strutturato questo eh questo questo portafoglio anche qui insomma mh ha una settimana questo portafoglio non credo che ci siamo mossi più di tanto più di tanto con i prezzi andiamo un po' a vedere cosa significa avere un airbag questo è un certi è un portafoglio che è così strutturato alla scadenza eh che più o meno dovrebbe essere in media di tre virgola sessantotto anni ce l'abbiamo presente qui è un certificato che remunera circa il nove per cento annuo significa il trentatré virgola quarantatré per cento secco eh dov'è che io vado a impattare eh dove mi impatta la componente airbag sullo scenario dove più o meno mi vanno in sofferenza tutte eh tutti i certificati che è al cinquanta per cento più o meno dagli strike iniziali e dove vedo l'effetto airbag che a meno cinquanta quindi a scenario di barriera violata un canonico fixed un canonico scusate phoenix memory tradizionale un cash collect memory che sia come volete chiamare la stessa cosa eh si riallineerebbe alla performance del sottostante e qui non accade questo perché vediamo a meno cinquanta il profit e loss del certificato ma in realtà del portafoglio è meno nove virgola ottantasette eccolo lì che eh così definiamo un portafoglio resiliente è vero sullo scenario meno settanta iniziamo un po' a soffrire però ecco vale la pena tornare ad analizzare anche per vedere uno per uno eh di che cosa stiamo parlando e il perché insomma anche analisi di scenario alla mano eh ci sono sembrati i più interessanti partiamo dalla proposta di Von Tobel sul tema assicurativo eh è stato anche presentato come certificato della settimana proprio in questa ottava questo certificato che è un cash collect memory airbag step down quindi tante opzioni accessorie l'opzione memoria sui sulle cedole vabbè ormai è imprescindibile l'airbag a scadenza e lo step down sul fronte dell'autocall eh AXA Prudential Allianz e IGON questi sono i sottostanti quindi eh settore assicurativo europeo ampiamente rappresentato andiamo a vedere anche nelle date di osservazione è un certificato che riesce a pagare lo zero settantacinque per cento mese come vedete lì trigger premio cinquanta per cento è anche il eh il trig è anche il livello barriera eh guardando l'analisi è è è step down scusate quindi dove lo vediamo step down che c'è questo trigger autocollable che scende nel tempo da cento per cento passa a novantacinque e poi al novanta quindi anche questo è un elemento resiliente del prodotto in sé eh va da sé che quando siamo in un contesto anche di ribasso io so due cose da uno mi paga mi pagano comunque le cedole dall'altro ho una possibilità di richiamo anticipato anche in presenza di una flessione dei sottostanti paradossalmente a novembre duemilaventiquattro anche a meno dieci di tutti i sottostanti è un certificato che può rimborsare e mi ha pagato tutte le cedole quindi mh eccola lì la resilienza in sé sull'analisi di scenario come vedete la parte è un po' contraddistingue tutti questo filone di questi sei certificati che vi faccio vedere la parte a sinistra o è ridotta al minimo o è molto bassa come vedete cedole del trentanove e sessantasei questo è il rendimento a scadenza o quasi nove per cento annuo ma anche sullo scenario sotto barriera un meno cinquanta si traduce in un meno quattro quindi eccolo lì anche l'airbag dove mi serve secondo certificato cambiamo è un fixed quindi questa è una proposta di ubs non c'è bisogno di di cercare gli e gli isin di segnarveli tranquilli stanno nella descrizione del video e stanno anche nella landing sul del portafoglio ced quindi li trovate assolutamente da tutte le parti qui abbiamo e introduciamo anche la cedola incondizionata abbiamo da un lato cedola incondizionata più airbag quindi prima che vi faccio vedere un po' i sottostanti è quel diversificato Italia se ricordate perché abbiamo Stellantis industriale Moncler chiamiamolo lusso energetico petrolifero denari seni insomma lo capite che è un po' diversificato si compra ancora intorno alla pari come funziona zero sessantasei per cento mese sempre in maniera incondizionata quindi non c'è bisogno di rispettare alcunché è un certificato che paga sempre lo zero sessantasei mesi e può rimborsare non abbiamo facilitazioni chiamiamole così dal punto di vista dell'autocall perché è fissa al cento per cento l'analisi di scenario così si compone ve l'avevo preannunciato quando inseriamo opzioni accessorie ancora più resilienti ed è il caso delle cedole incondizionate la parte a sinistra diventa sempre più verde quindi anche qui abbiamo diciamo il doppio effetto airbag più cedola fissa è un cuscinetto di protezione molto importante ci consente di fare che cosa anche sotto barriera avere comunque un profit e loss positivo qui andiamo sotto barriera a meno 50 comunque faccio più 5 a meno 70 faccio meno 24 sempre parlando del worst off ovviamente quindi sicuramente quando trovate fixed e airbag ecco su una scadenza comunque non ravvicinata quindi ecco qui questo è un effetto che io trovo non sulla scadenza 2024 perché le cedole fisse non non mi impattano più di tanto nemmeno 2025 certo è ecco se parliamo di prodotti che a meno scadono a due anni e mezzo barra tre come questo scusate tre o quattro come questo è è un effetto che si nota ed effettivamente in ottica di portafoglio torna estremamente utile torniamo su un fix and memory airbag step down questa volta è di e fg international quindi anche qui trovate un po' di sottostanti di emittenti variegati e questo è anche un'esigenza di diversificare in ottica di emittente guardiamo qua abbiamo un siti gruppo un bmp marex molto obel ubs e fg international quindi anche qui eh è nostra prerogativa anche muoverci in ambito di coinvolgere maggiori emittenti possibili anche per avere comunque una diversificazione di emittente questo è un certificato che l'abbiamo eh identificato come diversificato Europa effettivamente qui diciamolo la componente della correlazione anche che va a bracciare altri settori insomma lo vedete tranquillamente da soli troviamo caring unilever intera san paolo e ng group si compra leggermente sotto la pari abbiamo un worst of caring meno dieci per cento che su tutto il lusso è quello che è un po' delle big che sta soffrendo un po' di più zero settantacinque per cento mese con trigger sessanta per cento che è anche pari a quello della barriera e trigger autogall decrescente nel tempo sempre lo stesso ritmo cinque per cento qui no non è lo stesso ritmo precedente qui è cinque per cento ogni anno non è così rimarcato il ritmo della dello step down però è anche un certificato che scade un anno di meno guardando sull'analisi di scenario ecco è un certificato che come detto scade un po' meno la componente di protezione quando si scade un po' meno è un po' meno marcata sulla sinistra ma quello che è una barriera sessanta per cento mentre molti ne abbiamo trovati cinquanta troviamo che comunque a meno cinquanta entra subito l'effetto live bag e il profit e loss del certificato potenzialmente si dimezza e quindi è quello che a noi interessa sicuramente maggiormente evidenziario ovviamente phoenix memory airbag passiamo da bmp ed abbiamo un certificato sul comparto eh diciamo petrolifero eh ci piaceva già nelle scorse nelle scorse edizioni del portafoglio modello andiamo a vedere come funziona saliamo molto di cedola zero novanta due per cento mese ed è questo che ci ha portato comunque a reinserirlo trigger fisso sul fronte autocall andiamo a vedere l'analisi di scenario anche qui eh barriera sessanta per cento quindi anche a meno cinquanta comunque entriamo un po' in sofferenza ci torna estremamente utile anche l'airbag di mezzo la performance del world of a meno cinquanta faccio meno ventitré e questo è quello che fa l'airbag andiamo avanti con un city group un phoenix memory airbag anche questo è entrato sotto i nostri riflettori un po' più o meno meno interessante rispetto a qualche tempo fa lo compriamo sopra la pari figlio anche di tutti i sottostanti del basket sopra lo strike eh zero otto tre 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 per cento mese e poi subito trigger al novantacinque per cento quindi subito sotto la pari bisogna un po' ecco mettere sulla bilancia tutti lo pago sopra la pari ciò per una cedola comunque molto alta eh e potenzialmente mi rimborsa anche a gennaio duemilaventiquattro e questo anche un'ottica insomma di eh breve termine potrebbe comunque avere avere senso fix ed è dell'altro eh certificato con cedole incondizionate questa volta andiamo in casa marex con un fix ed cash collect airbag andiamo a vedere qual è il sottostante che è quel eh bancario assicurativo dove abbiamo due banche e due assicurazioni bmp intesa allianza generali tutti sotto la pari guida il worst of bmp meno dodici per cento circa come funziona zero sei due cinque mese in forma incondizionata e trigger fisso da marzo duemilaventiquattro quindi anche qui possibilità comunque di prendere molte cedole prima del potenziale l'autopolla fix ed ricordatelo prima più airbag verde molto marcato anche qui scenario sotto barriera sono ancora verde meno cinquanta faccio più otto virgola tre per cento meno settanta faccio meno venti tre avete capito un po' qual è il ragionamento lo avete apprezzato il fatto che se io inserisco un fix ed con un airbag ho questo tipo di payoff è in ottica di resilienza è molto importante vedete anche che ormai gli emittenti hanno imparato che dov'è che io rendo maggiormente evidente questa dinamica su scadenze un po' più lunghe e quindi vedete che tutte queste emissioni così fatte hanno sempre scadenza un po' più in là nel tempo almeno tre anni e qui abbiamo la riprova quasi quattro ultima no niente l'ultima emissione l'abbiamo quella era l'ultima ecco quindi questo era un po' il riepilogo anche per questa per questa per questo nuovo portafoglio eh che ricordo ecco lo abbiamo anche inserito qui insomma il flusso eh cedolare garantito ecco da questo portafoglio è comunque eh è comunque buono se ponderato insomma vedete stiamo sempre sopra lo zero sessant' sei due cinque per cento mese insomma se lo ponderiamo eh abbiamo una ehm un grado di eh di flusso cedolare comunque comunque interessante quindi vi invito a eh mantenervi collegati di mese in mese ma insomma ve lo ricordiamo tranquillamente anche in tutti i nostri canali social insomma monitorate questa pagina perché di mese in mese andremo comunque a eh ad andarla a eh ad aggiornare eh non vi lascio però con senza novità perché se andiamo sul nostro YouTube di certificati e derivati quindi andiamo su YouTube del Ced Lab Academy eh andiamo vi faccio vedere una cosa perché questa è l'ultima puntata eh della Ced Live vecchio vecchie maniere eh di conseguenza quale sarà la novità? L'avevamo annunciata un po' all'interno degli addetti ai lavori abbiamo avuto un po' ci siamo presi un po' di tempo per iniziare a strutturarla ma partirà eh lunedì dodici alle ore quindici la prima eh edizione speciale per poi andare a regime la settimana successiva perché la Ced Live diventerà un vero e proprio palinsesto all'interno dei contributi prodotti da certificati e derivati quindi vedrete dalla settimana post itf di Rimini un palinsesto di tre appuntamenti live settimanali lunedì il mercoledì e il giovedì dove si alterneranno insomma eh ospiti del nostro ufficio studi con approfondimenti sull'attualità su quello che accade sui mercati su alcune dinamiche che legano dei certificati di investimento magari anche qualche approfondimento con qualche novità e poi eh come dire accoglieremo di volta in volta gli ospiti dell'industria quindi vedremo anche alternarsi evidentemente anche svariati emittenti sarà un'importante novità che insomma metteremo eh volentieri a disposizione di tutti coloro che in questi anni hanno composto e hanno alimentato la nostra community community che ovviamente è alimentata dal nostro canale telegram che mi invito tutti comunque ad andare ad iscrivervi eh non vi lascio prima di avervi fatto vedere una cosa eh sui nostri appuntamenti perché la settimana prossima ci sarà l'ITF di Rimini quindi vi eh faccio vedere anche eh come dire eh il il sito eh su se andiamo su itf eh forum punto it andiamo sugli speaker eh sarà semplice andare ad intercettare anche il nostro Pierpaolo Scandurra e di conseguenza ecco gli eventi che comporranno le i nostri la nostra presenza a Rimini eh questi sono gli speech ufficiali ma ovviamente vi annuncio eh qui lo faccio io eh per la prima volta che non solo ci troverete con uno stand a Rimini ormai sono tantissimi più di dieci anni che certificati e derivati è presente a Rimini ma avremo un'area dedicata l'abbiamo definita certificate lounge perché oltre alla nostra presenza c'è la possibilità di parlare con i nostri esperti dell'ufficio studi sarà un'area eh più più grande del solito strutturata diversamente proprio per accogliervi con una chiacchierata e con un caffè perché abbiamo sposato anche un'iniziativa viene a prendere un caffè con l'ufficio studi di certificati e derivati perché ci sarà la possibilità di prenotare uno slot gratuito di venti minuti per con un nostro esperto ci sarò anche io ci sarò Pierpaolo Scandurra ci sarà Paolo Di Cesare che è responsabile dell'ufficio studi di certificati e derivati e ci saranno gli altri analisti del team dell'ufficio studi quindi eh andate sempre sulla descrizione di questo video per prenotare uno slot riservare venti minuti eh gratuiti lo ripeto con i nostri analisti con un caffè che saremo vieti di offrirvi allora la puntata della CED live così con il formato tradizionale termina qui e come dire vi do appuntamento a lunedì con la prima live e poi ci vediamo magari di persona all'ITF di Rimini il quindici e il sedici giugno ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti